L'amore è la risposta. Questo è il titolo della serata al teatro Petrarca organizzata dalla FIDAPA per sensibilizzare ancora una volta contro la violenza di genere, una piaga purtroppo che non accenna placarsi. Noi vorremmo puntare l'accento su quello che si può fare per migliorare le cose, per fare in modo che i rapporti nell'epoca moderna perdano quelle caratteristiche negative che hanno avuto nella storia. Perché in queste ultime tre generazioni i rapporti di coppia sono cambiati più che nelle 30 precedenti e a questo bisogna far fronte. È diventato un problema sociale, non è più un problema di certe coppie, è un problema della società, dell'Occidente. È un problema estremamente diffuso e che necessita l'intervento da parte di tutti. Però noi abbiamo cercato in questa serata di mettere l'accento su una collaborazione fra uomini e donne. Infatti poi presenteremo il nostro video che abbiamo fatto realizzare dal regista Paolo Sodi, i cui testimonia saranno tutti uomini, figure a rettine importanti, conosciute, che portano avanti questo discorso di solidarietà e di amore nei confronti delle donne. Paolo Sodi,